Abbiere! Allora, come li vuole? Sopra più lunghi e di qua e di là più... Prima parti con l'altro e parti tutti l'altro. Ma sopra li vuoi tagliare però sopra? Un po' si, un po'. Non sono lunghi però, va bene. No, no, non lo so io, non lo so. Adesso parti. Parti alto e poi pian piano basso. Si. Benvenuti in questo nuovo video, avrete già capito di che cosa si tratta. Ho cercato di tagliare i capelli a mio nonno, un video così improvvisato. Mi avete visto nei panni da allenamento perché non era voluto. Io dovevo andare da allenamento, ero passato a salutare i nonni e questo mi ha incastrato. E quindi è saltato fuori un tutorial di come non si deve fare. Allora andiamo a scoprire insieme come non si deve fare. Così. Così sono... è alto, eh. Non mi sto tenendo qua. Eeeh, sentai per via, per eccetera. Non farmi proprio pelato. Allora... No... stai tranquillo. E ma io ho preso il coraggio! Te ne hai di coraggio, si. C'è anche lo spazzolino, se vuoi pulire un po'. No, vabbè, c'è un pettino che magari dopo... Ah, nel bagno. C'è un rastralo più che un pettino, sennò quello più... Laura! Ecco, Marcello, va bene, va bene, va bene. Va bene quello, sennò c'è un pettino più fine. No, no, va bene, dai, sono... Questa è un rastralo. Sì, è un rastralo questo. C'è un pettino un po' più fine. Questa è un pettino un po'. C'è un pettino un po'... Quello con la coda lì, i pettinini. Con la coda lì. Allora. Sì, sì, va bene. Io pareggio, non è mica che ti chiama. Perché io ho? No, ma io ho me. Il barbiero non mi ha detto niente. Cosa ti devo dire io? Ma te hai visto che non davano fastidio? Ma ancora non mi davano fastidio. Ma no, sei te il barbiero. Sì, sì, sei io, tranquillo. Quanti centimetri sei? Un centimetro... Sette? Sette? No, eh sì. Dai. Sono a... Quasi un centimetro. Insomma, i lati un po' corti devono vedere. No, lei sceglie di farvi la stessa e sopra... No, sopra praticamente non c'ho ancora dato. Io non posso parlare. Allora... Dopo non metti in rete. Eh? Lo metti in rete. Eh? Lo metto in rete, sì. Meglio di no, dici. Sì. Non mi faccia meglio un po' di schiacciare. Eh? Tu le posizioni. Eh? Guarda un attimo da davanti. Laura! Aspetta. Che è lo specchio? Ma no, ancora non è ora dello specchio. No, mi interessa io. Sei rotto? Ma nello specchio lo stesso. Giorno che me lo prenda. No, no, no. C'è stato lo specchio adesso che è meglio che lo guardi. Oh, 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 oh. No, scherzo. No, scherzo, eh. Allora. Dormelo? Dopo, dopo. Solo da me. Sì. Come viene? Dietro viene abbastanza bene. Per davanti. A te non giri il girato da dietro? Allora, allora. Da me lo specchio. Posso sistemare, eh. C'è. Non è che davanti non sei ancora. Sì, sì, no. Andiamo bene. Andiamo bene. Andiamo bene. Andiamo bene. Stai un po' sopra. Sì, sopra non ti ho ancora toccato. No, no, no. Non metto più. Allora. 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 Ehi, com'è che si fa? Allora. Tiene davanti così. E gli dai tutta una spessorata a tre centimetri dove. Lì. Ci vai di qui. E li tagli tutti uguali. Sì, sì. Lunghi però. Non... No, no. No. Con uguale spessore. Va bene, va bene. Ma sei sicuro che li vuoi tagliare sopra? No, se c'è bisogno vedi te. Se non c'è bisogno niente. Ok. Allora. Ti giro. Ma ti posso girare? No, no, no. Stai buono. Ti giro di là. Allora. Allora. C'è sempre un lato che mi viene un po' meglio dell'altro. Di qua è... Si mi asciuga. Ma che sarebbero da accortare qua sopra, ma non qui davanti. Allora, posso rifatti da metà e poi esci. E poi... Si. Un po' di ciuffo, no? Cos'è ciuffo. Dopo metto la faccia così. Ti metti? La faccia come quella lì. Bisognerebbe sapere usare le forbici. Quelle forbici? No, non le so usare. Quelle non le so veramente usare. Ah, le prendi fra le dita così col petto. No, no. Non mi addentro con le forbici. Ho chiesto le forbici, mi voleva dare queste mannaie qui. E quindi così. Ah, ma gli devi venire da contro qua. Ho capito, però se... Forse potrebbe funzionare. Ah, funziona così. Se lo stanno a girare. Se lo stanno a girare? In che senso? Eh, 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 eh. Le giri quando il passavillo lo porti. Parti così, con la cosa dritta così. Era strano. Oh, capito. Allora fatti le tassolze. No, no, no. Ti piaccio Laura? Eh? Ah, 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 ah. Mi sto innamorando per la seconda volta. Io basta che piaccia la Laura. Al soltanto non si esce. Per me vai troppo più. Devo andare avanti più piano. Sennò non... È un po' più piano. Sennò... Oddio, non lo so, eh. Vedi te. Ah, no, no. Lo so neanche io, eh. Di qua sei fatto meglio. Capito? Ma anche dietro. Se hai fatto abbastanza bene, eh. Eh? Eh, sta parte di qua che... Eh, dai, 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 dai. Anche lì, anche lì. No, ma te la devi mandare giù così. Guarda non si esaurisce la batterica. Dopo che c'è per stasera. Dì, forse si sta scaricando. No. Si sta scaricando. No. Non è un po'. Allà che adesso abbiamo preso la prolunga. Ma no. I bambini fanno così. Se la metto fra le dita, poi le spuntano un po'. Dai. Però sarebbero un po' da bagnare, forse. A bagnare? Vado a bagnare? Perché la vado a bagnare un po'. Dai, vai a bagnare. Non è più. A bagnare. A bagnare. A bagnare. A bagnare. Con chi c'hai? Con la nonna? No, non li mettevi in fete, eh. Va bene. Abbiamo cambiato location. Eh? Abbiamo cambiato luogo. E chi? Era per dire abbiamo cambiato luogo. Ah, sì. Ok, posto. Location. Location è... Eh, sì. Cosa ridi? Cosa ridi? Cosa ridi? C'è anche un altro di cosa ridi a rastrali? Cosa ridi? Che rastrali? Ma fa proprio di tutto questo ragazzo. Ciao. Nonno. Non posso guardare. No. Saluta. Non posso. Sì, ciao. Sì, ciao. Vabbè, 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 vabbè. Basta, basta. Buongiorno. Fammi farvi vedere. Sì, sì. Adesso è andato bene. Mi sembra il frate indovino. Non male. Frate indovino. Sì, sì, sì. 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 Grazie per avermi seguito. Vi rubo soltanto altri 15 secondi per ricordarvi che se volete vedere altre cagate del genere iscrivetevi al canale, guardatele. Sono qui e vogliate, vogliate, tutorial, challenge. Questo è un video che è un po' una sintesi di tutte e due. Ma restate connessi perché fra un po' arrivano robe più, più potenti, più potenti. Ve lo posso assicurare. Chiedete ai Lions of Lernia. Vi taggo la pagina Instagram qui sotto, in descrizione. Ciao!